Grazie Fabrizio. Per i partiti della maggioranza quella di Renzi è una scelta irresponsabile. Crisi incomprensibile, dice Crimi 5 Stelle. Atto contro il Paese, accusa dal PD Zingaretti. Al Tg2 il ministro Amendola. È un grave errore che apre a qualsiasi scenario. Sentiamo Luca Moriconi e poi l'intervista di Alfredo Gardone. Errore grave di pochi che pagheremo tutti. Lapidario, il primo commento dal PD. Arriva ad Andrea Orlando che per tutto il giorno insieme agli altri pontieri DEM aveva tentato la mediazione per far sedere Renzi intorno a un tavolo con gli altri leader della maggioranza e il premier. Il punto di partenza, la nota di Zingaretti, il nuovo invito al dialogo per un patto di legislatura in tempi brevi rilanciato anche nel pomeriggio come unico impegno per cui battersi. E le parole di Conte a far dire a uno dei mediatori più attivi, Goffredo Bettini, che le condizioni per un'intesa di fine legislatura ci sono. Messaggi per evitare il grave errore politico della crisi. Una mossa, attaccano i 5 stelle, incomprensibile. Non c'è nessun merito nella fuga dalle responsabilità, l'affondo del ministro Bonafede. Prendiamo atto della scelta di Renzi di ritirare la propria delegazione di ministri, ma crediamo che in un momento dove il paese sta vivendo una crisi sociale, economica e sanitaria, nessuno ne comprenda le motivazioni. Così evito crimi a insistere, andiamo avanti, subito decreto anti-covid, scostamento di bilancio e nuovi ristori, perché per il movimento è tempo di voltare pagina, garantire stabilità, magari nel solco della linea tracciata in mattinata da Beppe Grillo, un appello all'unità con le parole del deputato pentastellato Trizzino, rivolto a maggioranza e opposizione, con precisazione e a guida Conte, l'unico governo possibile. E' duro il commento di liberi uguali, il vero coraggio, dice Fratoianni, è quello degli italiani di fronte alla pandemia. Il lavoro che non c'è più, il reddito che scompare, a questo coraggio dovremo portare tutti un grande rispetto, evitando di aprire crisi al buio e di precipitare il paese in una situazione ancora più drammatica. Grazie a tutti.